Una ribellione annunciata, un atto politico per denunciare un dissenso che si pone a livello istituzionale ma rischia di attivare anche il giudizio della consulta. De Magistris si ribella alla chiusura dei porti insieme al sindaco di Palermo e a una cordata di amministratori che nelle ultime ore hanno definito il decreto sicurezza disumano e criminogeno al punto da sospendere gli effetti della legge Salvini. Da Palermo a Parma, passando per Napoli, un'onda anomala di disobbedienza civile alla quale il ministro risponde con una diretta Facebook a muso duro. Poveri immigrati, dobbiamo dargli l'iscrizione all'anagrafe, dobbiamo dargli tutti i servizi, dobbiamo dargli una casa. Quindi io chiedo a questi sindaci, ma a voi, dei vostri concittadini italiani che vi pagano lo stipendio, non interessa proprio nulla. Mi spiace per Napoli, che è una bellissima città che merita di più. Peraltro, nel decreto sicurezza, pensate, è prevista dopo anni di fermo l'assunzione di 100 uomini della polizia locale a Napoli. Magari il sindaco non se n'è accorto, sta ancora festeggiando il Capodanno. E De Magistris, in tutta risposta, lancia un ulteriore guanto di sfida. Oggi si è detto anche disponibile ad aprire il porto di Napoli alla Sea-Watch, la nave che da giorni è nelle acque del Mediterraneo a zero gradi, con 32 migranti a bordo, tra cui donne e bambini. Qualcosa di criminale innanzitutto, perché io credo che lasciare delle persone e dei bambini in mezzo al mare con il gelo e la tempesta è un crimine. Un po' di propaganda politica passeranno alla storia per quelli che hanno fatto morire delle persone in mare. Poi sarà la storia che le giudicherà e mi auguro anche qualche tribunale, sinceramente. Io mi auguro solamente che questa barca si avvicini al porto di Napoli, perché contrariamente a quello che dice il governo, noi metteremo in campo un'azione di salvataggio e la faremo entrare nel porto di Napoli. Sarò il primo a guidare le azioni di salvataggio.